Ciao a tutti, io sono Emanuele Pirinei, per voi sulla scena Orazio Gentileschi, padre di Artemisia. Dico subito che portare in scena un personaggio come quello di Orazio si è rivelato un lavoro complesso, complesso perché da un lato la personalità di Orazio è quella di un padre premuroso, protettivo forse troppo nei confronti di sua figlia, dall'altro è una figura dura, fortemente dominante, fortemente compreso nel suo ruolo di padre, di maestro, ma soprattutto compreso nelle dinamiche sociali dell'epoca in cui vive, dinamiche che non permettono ad una donna, ad una ragazza di affermarsi come artista indipendente e come donna indipendente. E poi i suoi contemporanei, quelli che lo conoscevano, gli scrittori di biografie, ci riportano il personaggio di Orazio come un personaggio molto duro, intrattabile, col quale non era facile avere dei rapporti umani sereni e dei rapporti professionali. Ciò nonostante lui sarà una figura fondamentale nella formazione di sua figlia e di altri artisti anche in Europa. Detto questo non mi resta che darvi appuntamento al 22 marzo al Teatro Lyric di Assisi. Venite a vedere Artemisia perché c'è tutto quanto quello che possiamo chiedere ad uno spettacolo. Ci sarà da cantare, ci sarà da ridere, vedremo i ballerini, ci saranno momenti di comicità in questo spettacolo ma anche momenti in cui invece saremo portati a pensare. Saranno momenti duri, anche difficili da affrontare ma che sicuramente ci rimarranno nella mente e nel cuore perché avremo l'occasione di seguire questa ragazza da un'età innocente fino all'affermarsi come una donna indipendente ed un'artista indipendente. Vi aspetto al Teatro Lyric di Assisi il 22 marzo. Ciao!